Tutti coloro che hanno sottoscritto e pagato un abbonamento mensile o annuale in questi mesi di non utilizzo del servizio pubblico locale non sarà né rimborsato né compensato. Siccome il trasporto pubblico locale è una funzione completamente delegata alle regioni noi non capiamo perché la giunta regionale non provveda con uno strumento specifico, normativo o di giunta regionale a provvedere o alla compensazione o al rimborso di questi titoli. Abbiamo chiesto attraverso un emendamento con la legge cura Abruzzo 1 e sia con la legge cura Abruzzo 2 con i colleghi Mariani e Scoccia e non abbiamo avuto ad oggi alcuna risposta da parte della giunta regionale. Io penso che noi non possiamo abbandonare e tradire i pendolari abruzzesi siano essi lavoratori o studenti. hanno bisogno di essere rimborsati o compensati.